Ciao a YouTube, benvenuti a tutti dal nostro amichevole Nanno della Rete Dai, dai, fate casino, non vi preoccupate Eeeeeeeh! Buon Natale! RIVENAMO! Non era proprio così, però non si sa, bello Siamo qui per mostrarvi le novità, molto in ritardo però, l'importante è Meglio prima che mai, come disse Meglio tardi che mai Comunque, se vuoi capire... Sì, al massimo, meglio tardi che mai Eh, invece, meglio prima Eh, prima di te Prima che ci sono le vacanze Capisco Meglio prima È giusto Ragazzi, se non sapete i proverbi, studiate Un saluto a Frassica Si, si è zittita dalla fomenteria questo proverbio È bellissimo Salve E niente, ci trovate qui, aperti fino a 24, 24 città la tombolata Poi ci sono i torni di Yu-Gi-Oh, Magic e Pokémon C'è anche una League Challenge Bellissimo Ci sono un sacco di cose Tante promozioni Tante novità che vedremo in questo video Scavalco E dentro nel video Allora, partiamo con il Funko Con il 99 Tony Tony Chopper È Flockhead Eh, vedi, tipo, questo è il chopper da prendere È peloso Ah, ok E poi Edward Mani Bello, bello Edward in dress Il buono Johnny Depp Poi abbiamo come pop grandi Oh, Spider-Man nero N Ci sono altri pop Poi si torna Ah, sempre altri Edward No, altri Edward E poi delle buste Sì, una Ruggente e cose Così togliamo il cartone Decksbox Vai, vai, riempi, riempi Così togliamo Eh no, quelle altre Ok E poi c'è una box Di Pokémon Oh, Psygham Flame Mino ruggente Paldea E infine Ok, possiamo proseguire direttamente con Manga Ehi, si è finito tutto? Dì, dai, ciao Sì, ok Ah, ma come hai detto? Ah, beh, nel senso Nel senso Nel senso Signore, limone Ma è dressa Ciao, Vito Ciao, Grigio Vito E no E no E ormai E la due persone diverse C'è confusione No, no Per l'amico Fra E poi E' un attore Superman E' una deluxe Figlio di Superman E' quella Quella pausa Che ti prego Vai, vai, vai Caccia un po' di Al figlio D Vabbè, il volume 5 di Windbreaker Novità Amico mio Sì, lo sono visto Novità Madoka Magica Madoka Magica Sempre novità Novità di Yu-Gi-Oh Novità anche di Yu-Gi-Oh Novità di Marshall Tutte novità Mazza quante novità Spettacolo 24 euro 20 century Solo tre volumi a 24 euro In che senso? Ah, ma è dell'edizione definitiva Che l'hanno fatto nella versione caramello Non so però che versione Questo è Gio-Gio Lion Non è Gio-Gio Lion 1 Dragon Ball Super Hero Ah, per l'amico Minerba In Uyasha In Uyasha E poi Bommo Sabo Enchi Cosa è? 22 Novità Ma che sfacciato Oh, bella novità Sì, sì, sì Stato detto, stato detto Oddio, bella Novità Un po' di arretrati Naruto Mairo Yes Mairo Gacciacuta Novità Super novità Gacciacuta numero 3 Che troveremo anche nella versione Variant Credo Ok, Boys Abyss Novità Il numero 10 Come sta camminando Boys Abyss Novità Bidone Bidoncino Musiocutente 19 Ok Atelier Ma in realtà è che ha ragione pure Si dice così Però E lo so Se tu hai ragione No, avessi ragione Dragon Ball Numero 3 Underninja Underninja Numero 9 Novità 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 Dai Cercando di prendere tutti Ma My way And I No My way Si a me Si Vole provare Inferno X Lai So Poveri X Dead Rob Mimmo Dororo 3 8 Dororo Yakimaru Eh, non è su tipo Mai Mai Star Numero 3 Ok Poi c'è C'è L'Immortale Nella versione dell'era Bakumashu Bakumatsu Mieruko Chanset Mieruko Ah Maio Miro Novità Bellissima Copertina Altri Dororo Gannibal Gannibal E Bakemonogakari Arretrati Sì No, no Sto scendo un sacco di arretrati Non so dove li sto appoggiando Però sto scendo Dan 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 Eh? Tutto cinque Non lo so Io ho un'idea Sinceramente Ok Ok Ferenc 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 Tutte le cose Tokyo 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 Arretrati Sì Insomniac Arretrato Sì Tutto Tokyo Arretrato Karasachan Tutte le cose Dan 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 Sì Sì No Tranne di quello E sicuramente Quello è stato messo Sbagliato La quantità Sicuro E poi Andiamo Dan dan Le va Le cian benedetto Così Togliamo lo scatola Bellissimo 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 Che salutiamo Guarda guarda Cristiano Guarda guarda Questa è Tutta Cristiano Calendario Della vento Marvel 24 cartonati Albi Ah ma è geniale Ma si sfila Sì Geniale Tremana Spadaccino Ok Si può Per esempio Antrimanga Circus Volume 4 Citrus Citrus Dragonball Evergreen Allora Il campo del cobaleno Ok No Gattari Che si Di a Sano Trent'anni Vergine Ciao Trent'anni Vergine Mago Uno Si Per l'amica Mary Arretreti Arretreti Che manchevano Venuto Le soliti Intaci Dentro Oshinoko Oshinoko Dei giganti Lost Girl Lost Girl Blue Lock Altri Arretrati 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 Boruto Arretrati Arretrati Antri Brulock Centro Bip Citrus Citrus Cattro Cattro X-Men 26-27 13-17 11-11 Bellissimo Nocita Nella Valle del Vente Minyazaki Cain Cain Vagabond Vagabond E' il ringuno Yes Altro The Boys The Boys Number One Lesson Number One The Pen Is On The Table Si Poi altri Il campo dell'arcobaleno Sta giù Ok E poi Berserk Berserk Complete Edition Number Three E Number Two Giusto? Yes Batman Abbiamo Batman Joker World Batman Il Signore dei Ratti Bellissimo Perdoni Spettacolo E infine Bellissimo Absolute Wild Cats E niente raga Tantissime tantissime novità Come sempre Vi aspettiamo qui Una volta Pumettele di fiducia Tonnei Eventi Dattarizzi Tanto divertimento E buon inizio Ci vediamo Il prossimo video Bello Sì